Ciao a tutti, sono Brian Tresi ed il 18 settembre sarò a Milano al Teatro Nuovo per condividere alcune idee con te. All'inizio della mia carriera ho avuto diverse difficoltà, non avendo effettuato un adeguato percorso di studi. In seguito ho cominciato ad avere migliori risultati professionali, imparando a fare quello che fanno le persone di successo. Ed è così che ho trasformato la mia vita e successivamente quella di altri 5 milioni di studenti in ogni parte del mondo. Ho imparato che ci sono una serie di cause ed effetti che governano la vita e queste leggi dicono che ci sono delle ragioni per le quali le cose accadono. Per cui, se vuoi avere successo, felicità e benessere, ci sono specifiche cose che devi fare per raggiungere questi obiettivi. I pensieri sono le cause che producono gli effetti e tu diventi quello che pensi per la maggior parte del tempo. Nel seminario di Milano, che faremo assieme, ti mostrerò quello che le persone di successo pensano per la maggior parte del tempo e voglio mostrarti come sviluppare una vera e chiara visione del futuro, del tuo futuro, assolutamente precisa per ottenere quello che desideri. Soprattutto voglio mostrarti come raggiungere obiettivi molto specifici in ogni ambito della tua vita e come organizzare un piano ben preciso, una strategia efficacissima, stabilendo le priorità necessarie per ottenere grandi risultati molto più velocemente di quanto si pensi possibile. Ti mostrerò anche come identificare esattamente le conoscenze e tutto quello che ti serve per raggiungere gli obiettivi che hai stabilito per te stesso. Ricorda, per raggiungere obiettivi che non hai mai raggiunto prima, devi imparare cose che non hai mai imparato prima ed io ti insegnerò alcune tecniche che possono trasformare la tua vita. Ti insegnerò come ottenere eccellenti risultati in tempi rapidissimi. Ti insegnerò una strategia per mettere i focus su un piano di semplici cose che bisogna fare ogni giorno per aumentare la tua produttività, le tue performance, il tuo rendimento da tre a cinque volte di più rispetto ad oggi. Ti insegnerò come impegnarsi facilmente per una crescita continua, per ottenere sempre di più da se stessi senza porsi alcun limite. Con questi insegnamenti, tecniche, strategie, abilità utilizzate dalle persone che hanno successo in ogni parte del mondo, potrai crescere professionalmente e personalmente in un solo anno quanto una persona media cresce in cinque o anche dieci anni. Sono veramente entusiasta di invitarti al mio seminario del 18 settembre di Milano per trascorrere una meravigliosa giornata assieme, con la promessa che questo giorno cambierà la tua vita per sempre.